Puntare sull'economia della bicicletta per lo sviluppo urbano, economico e turistico con la decisiva componente della sostenibilità. La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ha promosso l'evento Come Corre la Bike Economy per fare il punto su un settore che nei territori di competenza vanta 224 imprese e una filiera che genera fatturato per oltre 197 milioni di euro. Abbiamo coinvolto le associazioni, le imprese e tutti gli stakeholder interessati a questo settore che spazia dall'artigianato al manufatturiero al commercio e poi con degli impatti significativi su quelli che sono i temi urbanistici dell'ambiente e della sostenibilità. L'impegno dell'ente per lo sviluppo di una cycling strategy si basa su tre pilaste, il primo dei quali è la formazione. La prima cosa che abbiamo imparato ascoltando gli interessati, gli interlocutori che operano in questo settore è un serio problema di competenze e quindi la difficoltà di trovare del personale che possa proseguire in questa eccellenza riconosciuta del nostro territorio. Il secondo tema, che è un altro tema che per noi è caldissimo, è quello dell'innovazione delle start-up perché sempre le associazioni e le imprese ci dicono abbiamo bisogno di trovare nuove soluzioni in un numero piuttosto consistente di campi che vada alla sicurezza del mezzo alla sicurezza su strada. Il terzo pilastro del progetto della Camera di Commercio è l'attrazione di investimenti esteri sul territorio con l'obiettivo di innescare dinamiche virtuose che ovviamente riguardano anche il tema dell'ambiente. Quello che a noi interessa è che l'economia e l'economia in senso lato e quindi anche la sostenibilità, l'ambiente eccetera ne tragano un beneficio e un'eccellenza resti nel nostro paese e nel nostro territorio in particolare. Che già di suo è un territorio forte per la filiera della bicicletta. Milano, Monza, Veranza e Lodi vantano infatti 562 addetti nel settore, pare al 38% dell'intera regione e al 7% a livello nazionale.